Servizio ai clienti compra online su arredi.it come possa essere d'aiuto Ho comprato un paio di scarpe da tre settimane e non le ho ancora ricevute Attenda in linea Si può sapere che stai finiti stavolta? Non lo so, non me la ricordavo così in Milano Ehi, ma quella non è una pantena Il suo pacco verrà recapitato nel giro di 48 ore Forse Ti sei fidato del sito sbagliato? Da oggi puoi contare su Poste Shop La consegna è garantita perché è poste italiane Rida, c'è il pacco? La sento male Servizio ai clienti compra online su arredi.it come possa essere d'aiuto Comprato sul sito un televisore 16 nonni, cosa ci fanno queste persone a casa mia? 16 nonni? Come l'hai ordinato? Mi sta prendendo in giro, voglio parlare col direttore Questo amore è la camera, ragazzi Il direttore al momento è molto occupato Comunque non sa c'è tantesi Ti sei fidato del sito sbagliato? Da oggi puoi contare su Poste Shop Ed è una garanzia perché è poste italiane Dove sono i nostri uffici? Non glielo dico Dove sono i nostri uffici? Non glielo dico